non vero un'altra cosa, un'altra incredibile cosa, ma tutti i video che metti sarò con noi, cosa? quasi tutti con noi quelli di Fortnite o altri giochi, sì, beh a parte Resident, da due, se ne cassa di due, ma che cos'è il tuo cane ciccione? Ma che bello! cane ciccione... oh no, che assi ne col cane, oh no, no no, però... sei rimando col cane, sei rimando col cane... non capisci che sti viti, belle buone, wow, scendo un commerciale! Buona notte! Buona notte! Buona notte! E niente, manca la leva, manca, è un mondo, vorrei stare male, stare male non ce la faccio. Oh, non so se... Ah, ma secondo me non sopporti il giro! Ma cosa vuoi dire? Io! Io vado... Ma se non ce l'ho addavanza? Eh, vabbè, cazzo cazzo. Cazzo cazzo. Ah già, ok, ci sono arrivato con molti dolori. Dolori a sedere. Uff, si è fatta su... C'è fatto pregio. Mamma, io che giocatore, stare male, si è comunicata così. Oh, ce l'ho fatta! Va, dai, non ce l'ho fatta. Cazzo, l'ho fatta tutto, e c'è il giento, che l'ho fatta. Vabbè, aciò, guarda, se ne avete venuto. Falto, non piace il fal. Cazzo il falo, non avete venuto. Ma cazzo ce l'ho fatta! Noo, ce l'ho fatta! no non vuoi prendere bastardo sono partito ultimi due siti ma poi ce l'ha fatta la carta è la carta scritta ma vada quei bastardi che bloccano la fine della mappa fatemi una vita porca puttana no Grazie a tutti. oh 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 non ho mai capato era prima questa ma l'avete vista quello che è volato ok quattro e posto questo è un bacio al mio vai va di picanarmi non non ce la faccio non ce la faccio il saremallo ce la fa io pure paco paco non puro secondo me no ci puro no ci puro ah per paco paco bahia ma no no paco 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 la uva è da me 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 basta andare a buttarmi i cuori che è veramente un bucello un bucello ciliegia 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 banana ok ciliegia 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 adesso ciliegia ciliegia stai là in fondo no guarda la carotea guarda la carotea mamma che culo ciliegia ciliegia allora banana ok ma banana ciliegia ciliegia banana non mi ricorda più niente io comunque allora l'uva è rotata aspetta l'uva stava qua se non sbaglio ne vorrei muocare tutte quante come scime ok saremmo oh ah poteva caricare l'uva saremmo già già buon ragazzone io vi abbandono siamo belli vi ringrazio una buona nottata una buona nottata a tutti ciao ciliegia oh no comunque non ho mai dire mamma mia ma io vi ringrazio tu per il video ciao ciao becia ho ah ma deuve comissare malo io ma camminare mi fa dire varsi è l'affanculo tuani mamma 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 no dai non ho capito no dai non ho capito davanti a stare da te non ti qualifico a mettere ma già ho qualificato ho qualificato mi sono qualificato bravo ma lui mi è caduto tipo con il pisello mi è caduto così ma come lo vedo ah ma quando ci sta ma come c'è uno che sapeva tutta la strada c'è andato dritto per dritto tutta la strada no no non d'attività si è andato tutta la strada davanti e non ci stanno in avanti con la strada no tipo uno c'è uno davanti il pelle fu una va tutta la strada senza mai cadere ed è arrivato prima no ma andava proprio deciso che lo sapeva gli sposti e se me li scopo un po' e volevo aspettare a vedere ma non ti guardavo mi vado eh non ti guardavo non ti guardavo mi faccio il po' ma stai in cartello non hai perso ok va per tu ok non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio no si non può capire il giro a casa ma anche se vi aggiano sui armi quindi io ho caluse ma non il giro a casa non è che non si tratta ma non si tratta la preghiamo si tratta ma non ci tratta No, guarda che l'alate è massimo, mi sono andata a figli all'ultimo strada. No, è stato venuto. No, è stato venuto. Stanno libero più casi dentro. Ma compro l'app! 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 D'OperaBn Che non vuoi, mi sono sassi No. Tampaglia! No! limits crash complaint Scusate Niente Grazie a tutti